Canale YouTube di Luigi Gallo Lavoro, un diritto minacciato Oggi parliamo del lavoro è una lezione di storia e di geografia quindi sicuramente storia del lavoro sicuramente è un argomento interdisciplinare e voi troverete e approfondirete questo argomento anche in altre materie come vedete, come ho scritto in questa slide ho preso spunto da un lavoro che ho trovato in rete fatto da un gruppo probabilmente di alunni e dal nostro libro di testo in uso Il lavoro nell'antichità e cominciamo a parlare, vi ho detto, un po' di storia del lavoro ad esempio nell'antichità ecco, nell'antichità il lavoro era visto con disprezzo allora, il lavoro come rapporto economico è parte stessa della storia dell'uomo della stessa storia dell'uomo però, per molti secoli, esso corrisponde essenzialmente alla schiavitù pensiamo, tanto per cominciare, alla cultura greca per la cultura greca dicevamo che il lavoro era soprattutto il lavoro degli schiavi certo, non è che sempre nella cultura greca il lavoro sia così denigrato ad esempio, se ricordiamo l'Odissea ricorderete che Ulisse era anche uno che sapeva lavorare che sapeva costruire le zattere perché quando deve andare via dall'isola di Calipso è lui che si mette proprio a costruire la zattera dimostra capacità di artigiano sa anche mettere mano ad un aratro, eccetera ma col passare del tempo il disdegno per le attività manuali tese a imporsi pressoché ovunque per esempio, Erodoto, nelle sue storie Erodoto è uno storico greco parla di parecchi popoli nelle sue storie e a proposito dice che vedo che pure tracci, sciti, persiani, lidi e quasi tutte le popolazioni barbare hanno minor considerazione per i cittadini che apprendono un mestiere e per i loro figli mentre ritengono nobili le persone libere dai lavori manuali in modo particolare quanti attendono alle attività militari comunque è un modo di pensare ben appreso dai greci tutti più degli altri dagli spartani e meno degli altri dai corinzi che non disprezzano affatto gli artigiani Erodoto, nelle sue storie come abbiamo appena finito di leggere testimonia che per tutte queste popolazioni non solo per i greci ma anche per i persiani i tracci, gli sciti, i lidi, eccetera sono nobili le persone libere dai lavori manuali in particolar modo chi si dedica alle attività militari infatti lui fa riferimento a Sparta ricordate che a Sparta erano nobili solamente quelli che praticamente facevano i soldati e gli altri, gli iloti, ad esempio quelli che lavoravano erano praticamente degli schiavi ad Atene o a Roma sono nobili quelli che si dedicano alla democrazia ad Atene alla Repubblica, a Roma, ai senatori mentre i lavori manuali sono demandati agli schiavi quindi il lavoro nell'antichità era un pochettino deprezzato cioè disprezzato perché insomma era appannaggio di queste classi inferiori ecco pensate per esempio che i latini non avevano una parola per descrivere il lavoro avevano solamente una parola per descrivere quello che non era lavoro, cioè l'ozio e il lavoro lo chiamavano negozio cioè il contrario dell'ozio ricapitoliamo non sarà inutile osservare che la lingua latina non possiede neppure un termine specifico per indicare quello che noi oggi chiamiamo il lavoro cioè l'attività dei contadini dei pastori degli artigiani in latino esiste la parola ozium che però è diversa dal nostro ozio perché indica il tempo libero però questo tempo libero può essere usato per occupazioni come la politica l'esercito l'attività intellettuale la scrittura la lettura quindi per noi l'ozio significa tempo libero sì per i latini il negozio lo vuol dire il contrario dell'ozio quindi negozio vuol dire le attività più spregi negozio lavorare non è si lavora di più o è più ammirato infatti sto dicendo che presso gli antichi romani diciamo i nobili erano quelli che non lavoravano che si dedicavano all'ozium che però poteva anche essere partecipare al senato oppure all'esercito oppure scrivere o leggere e quindi la parola negozio quello che noi per noi sarebbe il lavoro viene definita solo come negazione dell'ozium questo vocabolo non ha una radice propria che lo connoti in senso positivo indica semplicemente il non ozio il contrario dell'ozio come dire che l'ozium è l'attività vera il resto è quel che rimane a coloro che non possono dedicarsi a esso a quelli che non si possono dedicare all'ozium rimane solamente il negozio dobbiamo dire una cosa però con il cristianesimo le cose cambiano con il cristianesimo il lavoro acquista un valore lo possiamo vedere sin dalla diciamo così dalla dalla Bibbia per esempio si dice che lo stesso Dio Yahweh nell'Antico Testamento lavora per sei giorni poi il settimo giorno si riposò allora se addirittura Dio lavora il lavoro umano è concepito come partecipazione all'opera divina della creazione e quindi è un valore è positivo capite anche gli studiosi delle sacre scritture svolgono sempre qualche lavoro manuale per esempio presso gli ebrei chi scrive le sacre scritture poi svolge anche lavori manuali questo dicevamo dall'ebraismo dall'Antico Testamento si è poi riversato nel Nuovo Testamento per esempio San Paolo San Paolo artefice della prima grande diffusione del cristianesimo ebreo di nascita e di formazione dice ai cristiani tessalonicesi i cristiani di tessalonica dice che devono lavorare anzi addirittura arriva in una delle sue lettere appunto ai tessalonicesi arriva a scrivere chi non vuole lavorare neppure mangi quindi per i cristiani è importante lavorare ci si deve dare da fare bisogna fare bene il proprio lavoro è il caso per esempio dei monaci benedettini adesso vedremo c'è la servitù della gleba ecco i lavoratori nel medioevo sono chiamati anche così i servi della gleba perché da un punto di vista giuridico di per sé sarebbero liberi però sono obbligati a continuare a lavorare quella zolla di terra legati per tutta la vita alla coltivazione delle terre del signore feudale ma stavo parlando prima dei monaci beh questo è un argomento ricordate della nostra interrogazione di storia e geografia quindi siamo perfettamente in linea insomma con quanto abbiamo già detto cioè una cosa importantissima che viene detta nella regola benedettina è che il monaco non solo deve pregare ma deve anche lavorare cioè quello che è necessario per il sostentamento diciamo così deve essere procurato dal monaco direttamente con il suo lavoro non è che deve per esempio non chiedere l'emosina il monaco non è come il frate dominicano francescano che fa l'emosina no il monaco deve produrre qualcosa deve lavorare la vita del monaco è ritmata dalla preghiera e dal lavoro il lavoro può essere un lavoro manuale quindi come stavamo dicendo adesso la produzione agricola oppure anche un lavoro intellettuale come ad esempio copiare i manoscritti il lavoro degli amanuensi eccola l'ora et labora ancora un'altra declinazione di quello che abbiamo appena finito di dire per esempio i monaci sono famosi perché hanno bonificato siete mai andati per esempio a Morimondo se andate a Morimondo guardando dal lato avete visto la basilica di Morimondo non è una basilica è una abbazia è perfunto perché era un monastero adesso non ci sono più i monaci a Morimondo però era un monastero sono arrivati questi monaci hanno bonificato tutto il terreno attorno era una palude tra di vero che nessuno voleva andarci a vivere in questo posto era tutto intorno era una palude l'hanno bonificata oppure coltivare terreni abbandonati e prodosi abbiamo appena fatto un esempio oppure produrre i monasteri erano veri e propri centri di produzione agricola autosufficienti coltivare erbe officinali e le erbe che potevano servire avevano degli scopi anche medici oppure ancora oggi insomma fanno delle medicine fanno delle creme fanno dei liquori eccetera oppure come abbiamo detto lavoro intellettuale come la copia la conservazione di testi sacri classici e i monasteri come centri di produzione culturale negli scriptoria quindi dove venivano raccolti insomma i libri in un periodo in cui magari non c'era nessuno che come dire che leggeva libri e se non ci fossero stati loro questi libri si sarebbero persi ecco dicevamo che nella concezione del cristianesimo il lavoro deve essere fatto bene cioè bisogna metterci impegno in questo lavoro non solo in monaci ma in generale i cristiani sono tenuti a mettercela tutta per fare il meglio possibile il loro lavoro per esempio Charles Péguy che è uno scrittore francese cattolico del novecento nel suo testo Il denaro ha scritto un tempo gli operai non erano servi lavoravano coltivavano un onore assoluto come si addice a un onore la gamba di una sedia doveva essere ben fatta era naturale era inteso era un primato non occorreva che fosse ben fatta per il salario o in modo proporzionale al salario non doveva essere ben fatta per il padrone né per gli intenditori né per i clienti del padrone doveva essere ben fatta di per sé in sé nella sua stessa natura che resta al giorno d'oggi di tutto ciò come è stato possibile fare di questo popolo forse il solo popolo operoso della terra il solo popolo che amasse il lavoro di per sé per l'onore e la passione del lavoro un popolo di ostruzionisti un popolo che nei cantieri esprime la propria tensione soltanto nel cercare di non battere un chiodo attenzione Schaap e Ghi si chiede come è possibile che una volta questa gente lavorava per il gusto anche di lavorare di creare di produrre qualcosa di bello di ben fatto e adesso invece si cerca solamente di lavorare il meno possibile approfondiamo un po' il discorso vediamo un passaggio fondamentale nella storia del lavoro è stato quello della rivoluzione industriale da un certo punto di vista la rivoluzione industriale è molto positiva si riescono a produrre molte più cose giusto però utilizzando le macchine l'operaio non è più un artigiano e quindi non sempre quando lavora vede immediatamente il prodotto di quello che ha fatto e quindi nelle fabbriche i lavoratori sono costretti a riversarsi abbandonando la bottega la casa e la campagna ma soprattutto sono servi delle macchine piegati alla modalità di lavoro e ai ritmi della macchina quindi aumenta moltissimo la produzione ma perdono la dignità della propria opera e quindi perdono la dignità della propria persona se uno perde il lavoro perde la dignità del lavoro è una cosa brutta più che altro che perde la dignità di se stesso perde la stima ad esempio la fiducia in se stesso anche in psicologia bravissimi anche in psicologia ve l'ho detto che la spiegazione di oggi è una spiegazione interdisciplinare la divisione del lavoro l'organizzazione dell'attività lavorativa comporta una totale frammentazione delle procedure che permette di risparmiare tempo e denaro ogni operaio deve svolgere solo una specifica mansione non deve possedere più quelle abilità professionali che invece caratterizzavano l'artigiano allora ascoltate nei primi anni della produzione delle automobili si producevano le automobili così come gli artigiani facevano i loro prodotti quindi un tra virgolette metalmeccanico chiamiamolo così era un artigiano che doveva costruire un'automobile dall'inizio alla fine della produzione a un certo punto però qualcuno ha pensato questo se invece di fare in questo modo ognuno si focalizza su un momento solamente della produzione possiamo accelerare i tempi possiamo produrre molte più automobili questo signore è Taylor il Taylorismo poi c'è stato qualcuno esatto bravissimo e poi c'è stato un imprenditore che perché all'inizio i primi tentativi di attuazione delle idee di Taylor non sono stati molto fortunati ma a un certo punto un imprenditore un certo Ford ha detto proviamo a mettere in pratica le idee di Taylor nella nostra fabbrica di automobili la Ford creando appunto la catena di montaggio e quindi questo ha avuto degli effetti benefici pensate per esempio che lo stipendio il salario degli operai di Ford in pochissimi anni si raddoppiò triplicò cioè diventò perché questi riuscivano a produrre molte più automobili quindi guadagnavano di più e questo portò anche ad un vantaggio per gli stessi operai che per esempio dovevano lavorare meno ore al giorno erano pagati di più però c'è un risvolto negativo l'operaio faceva quel lavoro in maniera molto meccanica e quindi non vedeva più tutto il processo bravissimi è quello che state studiando in scienze umane il concetto dell'alienazione non so se avete visto Tempi Moderni per esempio di Charlie Chaplin non ne avete parlato è un film in cui si rende esplicita questa alienazione ma è vero che questo operaio continua a fare il gesto il movimento ad esempio che deve fare nella catena di montaggio non solo durante tutta la giornata ma anche la sera quando torna a casa perché ormai è programmato così è diventato una specie di macchina lo sfruttamento è chiaro che soprattutto nell'ottocento questa rivoluzione industriale abbiamo detto dato da lavorare a molta gente però all'inizio questi operai erano sfruttati normalmente nell'ottocento si lavorava 12 ore al giorno ma si poteva arrivare fino addirittura a 14 o 16 ore al giorno il che vuol dire praticamente che una persona viveva solamente per il lavoro senza alcuna forma di indennità o di assicurazione sociale chi si infortunava o si ammalava veniva abbandonato a se stesso se sei infortunato o sei ammalato non puoi più lavorare allora non guadagni niente quindi oltre a essere ammalato non potrai più neanche avere insomma il salario anche le donne e i bambini venivano assunti nelle fabbriche ma pagati molto meno adesso approfondiamo il discorso dello sfruttamento minorile perché adesso stiamo parlando dello sfruttamento in generale allora spero che abbiate già sentito parlare di chi è Friedrich Engels Friedrich scusate Engels insieme con Karl Marx ha scritto il manifesto del Partito Comunista ha scritto quelli che sono i testi i primi testi fondamentali del socialismo del materialismo scientifico quindi appunto di questa dottrina appunto di un socialismo molto realistico ebbene Friedrich Engels nel 1845 descrive così la condizione degli operai di Manchester gli operai sono costretti a rimanere aspettetela per favore allora vi ho detto che sto spiegando delle cose importantissime e del resto voi state studiando anche le altre materie gli operai sono costretti a rimanere in piedi per tutto il tempo senza potersi sedere chi si siede viene multato l'atmosfera delle fabbriche è di consueto umida generalmente più calda di quanto non sia necessario assai insalubre pesante povera di ossigeno piena di polvere dei vari vapori dell'olio delle macchine che quasi dappertutto sudicia il pavimento si compenetra con esso e diventa arancido a causa del calore gli operai sono poco coperti e ad un minimo sbalzo di temperatura nelle sale si raffreddano inevitabilmente per cui tengono sempre finestre e porte chiuse poi arriva l'improvviso sbalzo di temperatura quando escono al freddo senza mezzi per proteggersi dalla pioggia o la possibilità di cambiare il vestito bagnato con uno asciutto le donne incinte continuano a lavorare in fabbrica fino al momento del parto perché se si assentano troppo temono di essere licenziate succede spesso che una donna sia al lavoro la sera e partorisca il mattino dopo e non è troppo raro il caso che partoriscano in fabbrica in mezzo alle macchine questa è la situazione la condizione degli operai e delle operaie a metà ottocento così come l'ha vista con i suoi occhi Engels si tratta di una situazione di sfruttamento senza nessuna considerazione ad esempio di quello del parto delle donne oppure delle condizioni fisiche in cui si svolge il lavoro è chiaro che di fronte a queste ingiustizie gli operai si sono uniti per cercare di affermare i loro diritti già nel corso dell'ottocento la concentrazione di operai nelle fabbriche permette loro di maturare una coscienza di classe se leggerete Germinal di Zola si parla in quel romanzo proprio di operai che incominciano a capire che hanno dei diritti devono avere dei diritti devono essere considerati questi diritti dal padrone altrimenti si rifiutano di lavorare lo sciopero i lavoratori si organizzano per chiedere tutele un miglioramento delle proprie condizioni di vita in questi anni nascono anche le prime organizzazioni dei lavoratori i sindacati che nascono appunto nella fine ottocento movimenti di operai movimenti anche di varia natura e di varie impostazioni ideologiche nella prima metà del novecento come detto prima si assiste alla diffusione del sistema di lavoro fordista taylorista che prevede la realizzazione di beni per un consumo di massa un'organizzazione del lavoro altamente programmata e sequenziale l'impiego massiccio nel settore manifatturiero cioè praticamente appunto settore secondario di trasformazione dei prodotti finiti delle materie prime in questo periodo lo Stato inizia ad intervenire per disciplinare il rapporto di lavoro fino a quel momento relegato a forme privatistiche che di fatto favorivano solo il padrone il capitalista i lavoratori conquistano i propri diritti in materia di orario di lavoro massimo quindi verrà ridotto l'orario di lavoro massimo mi hanno detto che addirittura si arrivava fino alle 16 ore al giorno e quindi viene ridotto fino alle 8 ore in pratica all'inizio del novecento in Gran Bretagna e poi qualche anno dopo fortunatamente anche in Italia viene introdotto il concetto delle 8 ore di lavoro giornaliero il salario minimo l'igiene nei luoghi di lavoro la protezione per le fasce di lavoratori più deboli le donne per esempio quelle che abbiamo visto prima partorivano addirittura in fabbrica nell'ottocento oppure i bambini che venivano impiegati anche pochissimi bambini di pochissimi anni di età la tutela sugli infortuni insomma parliamo delle conquiste dei lavoratori decliniamo queste conquiste per esempio la prima conquista quella che limita la durata della giornata lavorativa stabilisce il diritto di riposo settimanale è un periodo di ferie retribuite il primo paese che fissa la giornata lavorativa l'abbiamo già detto prima è la Gran Bretagna nel 1911 in Italia una legge del 23 fissa anche in Italia quindi abbiamo già detto pochi anni dopo solo 12 anni dopo la Gran Bretagna fissa il massimo di 8 ore giornaliere è di 48 ore settimanali dal momento che era previsto solamente un giorno di riposo la domenica poi questo sarà elevato il riposo la riduzione e quindi a due giorni alla settimana non più uno quindi il sabato e la domenica e quindi automaticamente si passerà da 48 ore a 40 ore nel 1969 40 ore lavorative alla settimana sono 8 ore al giorno per 5 giorni 5 per 8 40 giusto dal lunedì al venerdì tolto il sabato perché prima erano 48 ore all'inizio del 900 perché c'era anche il sabato lavorativo quando nel 69 ecco nel 69 si è stato l'autunno caldo lo saprete lo sapete penso c'è stato un anno in cui i lavoratori hanno scioperato tantissimo per cercare di ottenere e hanno ottenuto questi diritti fondamentali hanno ottenuto lo statuto dei lavoratori per esempio c'è stata poi una legge del 97 che ha sancito quello che comunque era di fatto già attuato sin dal 1969 cioè la settimana lavorativa di 40 ore poi altra conquista importante vietare il lavoro ai bambini al di sotto di una certa età in Gran Bretagna l'età minima per il lavoro fu portata nel 1878 a 10 anni in Italia venne fissata a 12 anni nel 1902 a 14 nel 1948 oggi è di 16 anni ecco dobbiamo qua ricordare i due importantissimi romanzi Oliver Twist e David Copperfield di Charles Dickens i quali hanno fatto emergere questa realtà per esempio in Gran Bretagna cioè di bambini che venivano impiegati a lavorare anche se avevano pochissimi anni di età grazie a queste denunce le denunce dei romanzi di Dickens e non solo in Gran Bretagna come abbiamo abbiamo detto già nel 1878 fu impedito di assumere dei bambini far lavorare insomma dei bambini che avessero meno di 10 anni poi in Italia meno di 12 anni nel 1902 meno di 14 nel 1948 oggi è di 16 anni insomma è il cosiddetto obbligo scolastico voi comunque state frequentando la seconda classe delle scuole superiori sappiate che questo è anche l'ultimo anno dell'obbligo scolastico potete scegliere una qualsiasi scuola superiore ma sappiate che dopo la scuola media per due anni dovete ancora studiare insomma poi dopodiché avrete assolto in un certo senso l'obbligo scolastico quindi potrete già andare a lavorare perché di fatto l'obbligo diciamo finisce a 16 anni in Italia il lavoro delle donne la tutela del lavoro delle donne la parità di trattamento i salari le mansioni eccetera con gli uomini in Italia è stata introdotta dalla legge numero 903 del 1977 anche se diciamo la verità ancora oggi spesso ci sono dei servizi televisivi in cui emerge questo dato purtroppo che a parità di lavoro spesso le donne sono sottopagate rispetto agli uomini esempio lo si denuncia nel libro bianco sul futuro del modello sociale edito dal ministero del lavoro nel 2009 ma ve l'ho già detto non è solo questo libro bianco ma sono tante le indagini o i servizi che mettono a nudo questa realtà le donne subiscono discriminazioni nella carriera nell'accesso al lavoro e nella remunerazione spesso fanno fatica ad esempio ad ottenere degli incarichi di prestigio o comunque ad essere ad ottenere degli aumenti di stipendio o degli innalzamenti di carriera i diritti della lavoratrice madre in Italia sono tutelati da una legge del 1902 che concedeva alle donne che partorivano quattro settimane di riposo non pagato ossia oggi la donna in realtà ha diritto a un periodo di assenza dal lavoro retribuito di cinque mesi e quindi certamente anche in questo senso i diritti sono aumentati però ripeto questo percorso di parità parità di genere anche questo è un discorso che sicuramente state affrontando anche in altre materie non è stato raggiunto ancora del tutto poi ancora altre conquiste dei diritti dei lavoratori sono quelle che riconoscono il diritto a conservare il posto di lavoro a essere pagati in caso di malattia o di infortunio le prime assicurazioni contro malattie infortuni invalidità e vecchiaia vennero introdotte negli anni 80 dell'800 in Germania in Italia risalgono ai primi del 900 ed è evidente che questo ormai oggi è assodato cioè se una persona è malata infortunata eccetera ha diritto a una serie dicevamo di assicurazioni di assicurazioni sociali la cosiddetta previdenza sociale è il cosiddetto welfare uno stato sociale che permette di tutelare i diritti di chi appunto ha bisogno di queste tutele pensate per esempio alla pensione ecco cioè viene accantonata ad opera anche del datore di lavoro viene accantonata una parte dello stipendio per la pensione dell'operaio e questa è una conquista della civiltà in maniera tale che arrivato ad una certa soglia di età l'operaio il lavoratore eccetera possa finalmente riposare e quindi godere dei soldi che comunque sono stati accumulati nel periodo della sua attività lavorativa e quindi che possono andare a garantirgli una pensione quindi una rendita vitalizia poi ancora le altre conquiste dei lavoratori obbligano il datore di lavoro adottare gli ambienti di lavoro fabbriche cantieri miniere uffici di dispositivi perché il lavoro si svolga in condizioni di sicurezza sicuramente in questi ultimi anni le leggi sulla sicurezza sul lavoro sono state tra le più importanti in Italia le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro sono state recentemente riviste col testo unico per la sicurezza sul lavoro che è del 2008 bene adesso passiamo alla prossima slide non prima di aver notato una vignetta insomma che appunto esalta questo discorso quando finiscono le otto ore di lavoro nessuno resta in fabbrica ecco adesso ahimè tocchiamo un problema gravissimo che è quello dello sfruttamento dei minori come vedete purtroppo c'è ancora tanto lavoro minorile nel mondo non so se avete letto la storia di Iqbal Iqbal mazik esatto questo ragazzo pakistano che è stato anche ucciso poi da questi datori di lavoro che sfruttano questi bambini magari appunto lavorano nel campo del tessile in certe aree come vedete anche in questa tabella in certe aree del mondo c'è una percentuale elevatissima di bambini che lavorano per esempio Asia Pacifico il 12,5% anche se è diminuito un po' adesso diventato l'8,3% in America Latina l'8,8% nell'Africa subsahariana il 25% dei bambini nel 2008 e adesso comunque il 21% dei bambini nel 2012 lavorano mentre in altre regioni ad esempio anche le nostre regioni quindi il nostro continente e l'Europa per fortuna la percentuale è inferiore intorno al 4% comunque non è giusto che questi bambini invece di poter godere dei giochi della formazione l'educazione la scuola eccetera sono costretti a lavorare nelle altre regioni c'è anche l'Europa ah si è alzato è vero lo sfruttamento dei minori in altre regioni invece di essere diminuito si è alzato forse però anche perché è aumentato il numero della popolazione credo non so però è vero hai ragione si è alzato le attività pericolose ecco un elenco delle attività che l'organizzazione mondiale del lavoro considera pericolose per i minori quali sono le attività pericolose secondo l'organizzazione mondiale del lavoro l'ILO sono le attività che spongono ad abusi fisici psichici o sessuali pensate ad esempio alla pedofilia attività che si svolgono sotto terra sott'acqua ad altezze pericolose in spazi distretti prima stavamo parlando di Dickens dobbiamo ricordare anche Giovanni Verga il quale ha scritto dei racconti su questi ragazzi o bambini che venivano sfruttati nelle miniere in Sicilia ad esempio attività con macchinari o attrezzature pericolose attenzione purtroppo dobbiamo dire questo non c'è scritto sul nostro ribo però gli incidenti sul lavoro le morti bianche sono purtroppo una realtà molto frequente spesso anche al telegiornale vediamo dei servizi o leggiamo degli articoli sul giornale su questi incidenti e morti sul lavoro attività in ambienti insalubri che possono per esempio esporre i bambini a sostanze agenti processi o temperature pericolose o livelli di rumore o di vibrazioni che possono danneggiarne la salute ma ragazzi ma avete sentito recentemente di questi bambini che si sono ammalati di cancro o di tumore perché vicini ad una fabbrica ad esempio a Taranto vicini ad una fabbrica che evidentemente aveva dei rifiuti industriali degli scarichi nell'ambiente possono far venire far venire dei tumori sì sì oppure attività in condizioni particolarmente pesanti come lunghi turni di lavoro notturni lavori che non permettono di rientrare quotidianamente a casa insomma tutte queste attività pericolose spesso vedono non solo gli operai in genere ma addirittura i bambini come protagonisti vedete per esempio in questa fotografia una bambina che porta sulla sua testa dei mattoni quindi come vedete non sempre le norme di sicurezza in tutti i stati in tutti i paesi vengono rispettate è importantissimo invece rispettare le norme di sicurezza quando voi l'anno prossimo inizierete a fare attività di alternanza scuola lavoro dovrete fare un corso sulla sicurezza per conoscere queste regole quella legge del 2008 perché è fondamentale che si rispettino queste regole sui luoghi di lavoro non si scherza su queste cose ve l'ho già detto perché muoiono quotidianamente si può dire purtroppo anche in Italia anche nel 2019 muoiono degli operai per via di queste problematiche avete delle domande da fare su questa bellissima spiegazione altri video didattici su a tuttascuola.it 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 a tuttascuola.it